Da venerdì prossimo fino al 17 ottobre l'ERICI ospiterà il primo festival della salute. Tanti appuntamenti a tema benessere che riguarda ciascuno di noi. Questo è vero, soprattutto riguarda ciascuno di noi l'acquisire consapevolezza. Lo scopo principale di questo festival è questo, la capacità di conoscere per poi elaborare tutte quelle misure di prevenzione e di qualità della vita che servono per evitare di ammalarsi. Incontri, workshop, show cooking, conferenze, un festival multiforme? Sì, il festival della salute. Saranno presenti vari tipi di laboratori dedicati alla floriterapia, alla naturopatia, alla malnutrizione artificiale e poi appunto degli screening gratuiti. e avremo anche letture di libri con vari autori provenienti appunto da fuori, anche locali, laboratori anche dedicati alla mindfulness, all'arte terapia e alla musicoterapia. Un festival che verrà ospitato in più luoghi del Borgo di Lerici. Conferenze vengono fatte presso il Tenso Struttura in Piazza Garibaldi a Lerici e tutte le altre appunto laboratori screening verranno comunicati di volta in volta. Comunque si può già trovare nel programma e comunque sul sito del comune di Lerici www.lericicost.it Il festival sarà un evento molto ricco che toccherà tanti aspetti legati al benessere. Assolutamente, noi siamo quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, pensiamo. Una delle iniziative più importanti è quella di poter contribuire a creare cultura perché se è vero che l'informazione è prevenzione, portare consapevolezza alle persone attraverso quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, soprattutto lo stile di vita e parlare di epigenetica oggi è veramente una rivoluzione. Ammiraglio, al primo festival della salute di Lerici sarà presente anche la Marina Militare con Nave Italia. La vicinanza di Lerici alla realtà della Marina Militare è sicuramente un fattore che potrebbe favorire anche il consolidamento istituzionale di questa attività a favore dell'Istituto Antares da parte di Nave Italia. Un focus particolare sul tema della violenza sulle donne, un fenomeno ancora preoccupante purtroppo. Sì, un fenomeno estremamente preoccupante che abbiamo deciso di affrontare in una maniera diciamo sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Dal punto di vista teorico interverranno come relatrici la dottoressa Maria Cristina Failla, la dottoressa Diana Broussacà, andranno avanti nelle relazioni l'ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Izzo. Chiaramente tutto a corollario di tutto questo ci sarà anche una parte pratica che sarà tenuta dal vicebrigadiere della Guardia di Finanza Francesco De Benedittis che è il formatore anche per quanto riguarda la difesa personale proprio della Guardia di Finanza.